Una vittoria attesa, ma che il Piacenza è stato molto bravo a rendere più facile del nostro previsto. La forza dei Biancoli è stata proprio quella di far esaltare in maniera molto chiara la differenza in campo fra la prima e l'ultima della classe, grazie a una prestazione di qualità, di quantità, di capacità di leggere i momenti della partita e anche di qualità offensive di una squadra. Chi ha segnato quattro reti ne poteva fare altre quattro. Dal punto di vista delle formazioni Rossini cambia qualcosa, ma se è davanti il cambio è obbligato perché Recino è squalificato e gioca Facundo Marquez, in mezzo al campo sceglie Kernezzo e Artioli in mezzo al posto di Gervaudo e Bacchini. Il Piacenza passa in vantaggio praticamente subito, un bel calcio di punizione, un bello schema. Oggi se ne sono visti diversi, sull'asse Corrado-D'Agostino va sul fondo, crossa Endoie di testa. Il secondo gol è uno spettacolo, Corrado e D'Agostino continuano a triangolare, arrivano sulla tre quarti, l'imbucata per Facundo Marquez che chiude la partita. Nella ripresa altri due gol, ancora Andoie e Facundo, tante altre occasioni, tanti cambi nell'ottica di recuperare ovviamente il giocatore e di far riposare gli altri per quanto riguarda lo scontro diretto col caldiero di giovedì. L'unica nota negativa è l'ammunizione di Somma, anche se ancora lontano dalla difida probabilmente poteva evitarsi in una partita pressoché perfetta. Ora sei partite, quattro trasferte, tre scontri diretti. Le prossime due saranno decisive, Piacenza che andrà a Caldiero e Brusa Porto. Fare quattro punti come nelle trasferte insieme che erano Arconatese e Brusa Porto permetterebbe Piacenza di arrivare alla fine, alle quattro partite alla fine, sul vialone dell'arrivo con un abbrivio veramente decisivo.